Ma se ti dicessi che la barra dei colpi di ambra non è una barra unica? Sì, siamo abituati a vederla in questo modo, ovvero con un fascio unico di fiamme. In realtà queste sono tante piccole fiamme e la barra va a tanti piccoli scatti, sia in fase di scarica dei colpi sia in fase di ricarica a ben 40 scattini. E possiamo vedere tutte queste 40 fiamme spinnando il colpo, le vediamo andare in tutte le direzioni e se ci mettiamo a contarle sono esattamente 40 fiammette. Se ti interessano queste tips ovviamente seguimi perché ne porterò molti altri sul canale. Conto su di te!